Musica Gelo in Campania, chiuse molte scuole, neve su Napoli, alla regia di Caserta e sugli scavi di Pompei, anche il Vesuvio è completamente imbiancato, aule vuote nel Sannio, in Irpinia, in diversi centri della provincia di Napoli e dell'Alto Casertano. Non sono solo preoccupato, sono indignato, così il cardinale Crescenzo Sepe, arcipescovo di Napoli, in merito al dossier depositato in Curia, in cui si denunciano presunti casi di omosessualità nei quali sarebbero coinvolti i sacerdoti religiosi e seminaristi di alcune diocesi italiane. Napoletani in Messico venduti ad una banda per 43 euro, quattro agenti arrestati, appello della famiglia, il governo si muova. Banda di truffatori trasfertisti sgominata a Milano, erano napoletani, usavano il trucco del falso incidente stradale. Fiore a Benevento, corteo antifascista contro la manifestazione di Forza Nuova. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovato, lo abbiamo appena sentito dai nostri titoli. Freddo e neve sono arrivati in Campania con temperature al di sotto dello zero e l'allerta a meteo durerà almeno fino alla mezzanotte. Fiocca sul Casertano, nell'Avelinese, ma anche nel Beneventano e nelle zone alte di Napoli. Scuole chiuse in molti comuni, Vesuvio imbiancato, scenario inusuale anche alla reggia di Caserta. Due servizi. Il vento siberiano Buran porterà la neve su tutta Italia. Gli esperti l'avevano annunciato e tutti l'abbiamo attesa. Ce l'aspettavamo, controllando dalla finestra, con le previsioni e con gli aggiornamenti delle app sui cellulari. Fino a quando lunedì 26 febbraio è arrivato, i mattinieri se la sono goduta in tempo reale. I dormiglioni l'hanno trovata lì, placida, tranquilla, candida, in attesa di vederne altra venir giù. Inizio di settimana imbiancato per la Campania. Nella città di Benevento, in quasi tutti i comuni della provincia, è nevicato anche a bassa quota. Quasi tutte le scuole sono state chiuse con ordinanze sindacali disposte già nella giornata di domenica. Qualche altro primo cittadino della Valle Tenesina, invece, ha atteso il lunedì prima di decidere di sospendere le elezioni. Anche se in diverse zone del capoluogo la neve si è posata a terra, non si sono registrati particolari disagi alla circolazione leggera sulle principali arterie stradali. Grossi disagi, invece, alla circolazione sulla strada statale Appia a causa della neve e del ghiaccio. Auto ferme a sferra cavallo nel comune di Montesarchio e circolazione in tilta sul tratto di strada nel comune di Arpaia, dove un pullman, sul quale c'era solo l'autista che è rimasto illeso, si è messo di traverso sulla carreggiata dopo essere finito fuori strada. Due persone sono rimaste ferite in seguito ad un tamponamento a catena avvenuto sul raccordo autostradale tra Benevento e San Giorgio del Zagno, probabilmente a causa della condizione della strada. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due furgoni e due auto. Altro incidente sulla statale Ufantina Bissa che collega Avellino alla zona dell'Alta Irpinia, dove alcuni tir si sono ribaltati e messi di traverso sulla carreggiata all'altezza del comune di San Mango sul Calore e nelle prime ore della mattinata sulla variante di Avellino. Problemi anche sul raccordo autostradale Avellino-Salerno a causa di mezzi pesanti bloccati dalla neve tra gli svincoli di Fisciano e Baronissi in provincia di Salerno. È stato riaperto il tratto irpino della A16 napolicanosa che a causa delle abbondanti levicate era stato chiuso per alcune ore. Inbiancata Napoli, il Vomero, i Camaldoli, completamente il Vesuvio, ma anche Capri, Ischia, Pozzuoli, Pompei, traffico bloccato per qualche ora all'aeroporto di Capodichino. Si presenta completamente imbiancata la reggia di Caserta, uno spettacolo particolarmente apprezzato da residenti e turisti che hanno immortalato con foto l'evento. Anche le spiagge del litorale Domizio sono state ricoperte da un manto bianco. La neve ha imbiancato ovviamente tutte le cime del Matese e le altre catene montuose come quelle dei Monti Tifatini ed è caduta copiosa anche nella città di Pianura. Avvolti da una coltre bianca anche i comuni dell'Alto Casertano. Così erano qualche ora fa i comuni di Sant'Angelo d'Alife, San Potito, Alvignano, comuni abituati ma mai del tutto pronti ad episodi come questi. Ma ci sono anche aspetti preoccupanti. L'ondata di gelo e neve che si abbatte copiosa mette a rischio anche l'incolumità di persone, di persone senza fissa dimora e anche per la circolazione stradale, l'altra faccia di una medaglia triste e preoccupante distante da selfie e da pupazzi di neve. Inizio settimana è imbiancato per la provincia di Salerno come per buona parte del sud Italia. Neve e freddo ovunque. Una coltre bianca si è formata in diverse zone dell'agro nocerino sarnese. Un fenomeno affascinante per chi è rimasto a casa, soprattutto per i più piccoli, che hanno beneficiato in larga parte delle scuole chiuse. Stop alle elezioni a Corbara, Sant'Egirio del Monte Albino, Pagani, Nocera Inferiore. Meno piacevole il nevischio per chi si è messo alla guida per raggiungere il posto di lavoro. Si sono registrati disagi a macchia di leopardo ad essere penalizzata la viabilità. Dal pomeriggio si rischia la formazione di lastre di ghiaccio sul manto stradale. Sconsigliato e pericoloso l'attraversamento del valico di Chiunzi. I controlli delle forze dell'ordine e della protezione civile confermano l'impraticabilità della strada provinciale, nonostante l'azione dei mezzi spargi sale inviati dal comune di Corbara. Obbligo di catene a bordo per percorrere la 30 Caserta Salerno. Sesso obbligo anche per l'autostrada 2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra il Vallo di Diano e la Calabria. Chiusa temporaneamente anche la 16 Napolicanosa in entrata a Grotta Minarda per consentire la rimozione della neve caduta in abbondanza sul valico di Montemiletto in direzione Napoli e nella Valle del Calaggio in direzione Bari. Disagi anche alla viabilità sulla 3 Napoli-Salerno in direzione nord tra Vietri sul mare e Cava dei Tirreni anche per la presenza di un cantiere. In diversi comuni del Vallo di Diano, Alburni e Tanagro si circola a rilento. Nei centri montane alcune arterie sono impercorribili. Numerose le ordinanze sindacali di chiusura degli istituti scolastici. I primi cittadini di buon abitacolo, Montesano sulla Marcellana, Buccino, Contorsi Terme, Palomonte, Petina, Piaggine e Valva, già nella serata di ieri avevano emesso apposite ordinanze di chiusura. Oggi e domani istituti scolastici chiusi anche nei comuni di Atena Lucana, Padula, Sanza e Teggiano. Disagi a Salerno, in particolare sulla tangenziale per il manto resoviscito dalla pioggia. Il nevischio è interessato solo alcuni quartieri del capoluogo, in particolare le zone alte. Chiusa anche l'università. A Fisciano, causa neve e gelo, sono stati annullati esami, lezioni e sedute di laurea già programmate per decisione del sindaco. Scattato il piano antineve in Irpinia, dove sono al lavoro mezzi spazzaneve e spargisale. Scuole chiuse oggi e domani in tutta la provincia. Situazione simile nel Beneventano, nel capoluogo del Sannio, fermi anche i trasporti pubblici. A Napoli neve in particolare nelle zone collinari. Il Vesuvio appare completamente innevato. A Ercolano il Comune ha disposto la chiusura della strada comunale di accesso al cratere del Vulcano fino al 28 febbraio. Il prefetto di Benevento, Paola Galeone, con proprio decreto adottato, su conforme parere del Comitato Operativo per la Viabilità, ha disposto la sospensione della circolazione a partire dalle 22 di domenica 25 febbraio e fino a cessata esigenza dei veicoli e dei complessi dei veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate, ad eccezione dei mezzi utilizzati per interventi urgenti e di emergenza, per esigenze di soccorso, di protezione civile e tutela dell'ambiente, di manutenzione stradale e di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani. Ed anche i carabinieri molisani in prima linea su tutto il territorio della provincia di Sernia per raffornire assistenza alle popolazioni locali ed in particolare agli automobilisti in occasione delle precipitazioni nevose e del gelo che sta interessando anche i territori di competenza giurisdizionale grazie all'impegno delle stazioni dislocate capillarmente anche nelle zone più impervie. E l'aria gelida e le nevicate hanno investito tutto il territorio regionale della Campania ma con effetti pesanti sulle colture agricole nell'area nord di Napoli e nel confinante territorio di Caserta. In questa zona l'ultima importante nevicata a memoria degli agricoltori risale al 1956. La neve ha cominciato a cadere copiosa dalle 6 del mattino con temperature prossime allo zero. Al momento sono in corso verifiche sull'entità dei danni. E la protezione civile della regione Campania ha prorogato l'allerta meteo attualmente in vigore di ulteriori 48 ore cioè fino alle 23.59 di mercoledì. Le precipitazioni nevose che attualmente stanno interessando il territorio a partire dalla serata lasceranno il posto a gelate persistenti anche in pianura. Le temperature saranno infatti in ulteriore diminuzione. Cambiamo argomento. Non sono solo preoccupato, sono indignato così il cardinale Crescenzo Sepercivescovo di Napoli in merito al dossier depositato in Curia in cui si denunciano presunti casi di omosessualità. Sentiamo. Tutta la documentazione sarà inviata alle autorità competenti in Vaticano. Qualora i fatti fossero accertati ci sono delle misure molto chiare e precise che verranno prese. Lo ha detto il cardinale Crescenzo Sepercivescovo metropolita di Napoli commentando il dossier depositato in Curia in cui si denunciano presunti casi di omosessualità nei quali sarebbero coinvolti i sacerdoti, religiosi e seminaristi di alcune diocesi italiane assicurando che la cosa è stata già comunicata. Lo stesso Seper ha ricostruito i fatti e ha raccontato che è stato consegnato il dossier alla Cancelleria, non a lui personalmente perché era fuori a consegnarlo su CD un signore in quelle 1200 pagine, nomi, cognomi e rispettive diocesi che vanno dal Laccio alla Sicilia alla Sardegna con registrazioni di dialoghi e qualche brutta fotografia. Napoli non c'entra, continua, è stata scelta probabilmente perché questo signore abiterebbe in città e quindi per lui era più facile consegnarlo qui. Non sono preoccupato, sono indignato, continua il cardinale. Ci sono circa mille sacerdoti che lavorano, si sacrificano con entusiasmo sono la stragrande maggioranza dei sacerdoti che lavorano nel Cristo e nella Chiesa con bene enorme, un bene immenso. E' chiaro, ha aggiunto l'arcivescovo che ognuno deve prendersi le sue responsabilità e ogni vescovo si assumerà la sua responsabilità nell'applicare quelle norme previste dal codice di diritto canonico. E più che di diritto canonico, conclude Seper, direi di coscienza perché non si possono infangare tutti i sacerdoti per alcuni che purtroppo hanno abdicato e tradito quella che era la loro missione. Napoletani rapiti in Messico e venduti ad una banda per 43 euro 4 gli agenti arrestati, appello della famiglia, il governo si muova, sentiamo. Venduti ad una banda di criminali per pochi euro potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta il caso dei tre campani, Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cemmino scomparsi in Messico quasi un mese fa. Quattro poliziotti di Tecalitlan, la località dello stato di Jalisco dove i tre connazionali tutti di Napoli sono spariti il 31 gennaio scorso, sono stati arrestati per averli consegnati ad una organizzazione criminale. Già rinviati a giudizio per loro è scattato un anno di carcere preventivo. Gli agenti hanno confessato ma non hanno rivelato il nome della banda alla quale gli italiani sono stati dati né a quale prezzo. La zona di Jalisco è nota per i rapimenti lampo, specie di stranieri ad opera di bande vicine ai narcotrafficanti in cambio di denaro. Secondo la famiglia dei tre napoletani, i loro cari sarebbero stati venduti dai poliziotti che li avevano bloccati per 43 euro. 14 euro a persona denunciano i parenti che da giorni vivono nell'angoscia e oggi hanno rivolto un appello al governo italiano a muoversi. La Farnesina ha confermato l'arresto dei quattro poliziotti, tre uomini e una donna e ribadito di seguire il caso con la massima attenzione attraverso l'ambasciata italiana in Messico che lavora in stretto raccordo con le autorità locali. Il punto essenziale da capire ora è a chi siano stati venduti i tre italiani e dove si trovino in questo momento. In Messico proseguono serrate le ricerche con l'uso di unità cinofile. Cinque giorni prima della sua scomparsa, Raffaele si è riunito con il figlio, 25 anni e il nipote di 29, in un albergo. Questi ultimi due sarebbero arrivati in Messico insieme ad altri sei italiani, tra i quali altri due figli di russo, Francesco e Daniele. E lui, che è rientrato in Italia, ha riferito delle ultime ore dei tre scomparsi. Era tornato a casa per curarsi il mal di denti Giuseppe Passaro, un 39enne originario di Marano, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto contiguo al clan Polverino attivo a Marano di Napoli e quarto. L'uomo è stato catturato dai carabinieri della Compagnia del Posto. Passaro deve espiare nove anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio commessi nelle province di Napoli, Rimini e Firenze nel 2000. Era latitante dal 16 febbraio. I carabinieri lo hanno localizzato la notte scorsa a casa sua, dove era tornato per farsi delle iniezioni di antidolorifico a causa del mal di denti. Banda di truffatori trasfertisti sgominata a Milano. Erano napoletani, usavano il trucco del falso incidente stradale. Sentiamo. Una banda di truffatori napoletani trasfertisti è stata sgominata dai carabinieri di Milano. A essere raggiunti da misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale della città capoluogo con l'accusa di truffa aggravata, sono stati cinque uomini, tutti originali del napoletano, a Napoli, Parma e contestualmente in Spagna. Le indagini sono state condotte dagli investigatori del comando provinciale di Milano, che hanno analizzato numerosi episodi di truffa agli anziani, consumati nel capoluogo, nel corso dei quali sono stati portati via contanti e preziosi, per un valore stimato di oltre 200.000 euro. Le truffe, secondo quanto ho spiegato, sono state tutte messe a segno, utilizzando la tecnica della telefonata detta del finto avvocato e del finto carabiniere, che prospettavano alle vittime il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale. Il capo dell'organizzazione era Luigi Murolo, di 32 anni, residente a Barcellona da tempo. Aveva scelto la città spagnola come base per la centrale telefonica delle truffe. Da lì, infatti, partivano le telefonate alle vittime d'Italia. In casa di uno degli arrestati sono stati trovati 36.000 euro in contanti e molti gioielli smontati in pezzi. L'oro era portato a Napoli per essere fuso. Gli operativi lo trasportavano in treno, nascondendolo nelle mutande. Sono le principali arterie di accesso al Sannio, al centro della Task Force di Controlli, predisposta dalla Polizia di Stato di Benevento, con l'intento di rendere possibile un monitoraggio degli ingressi in territori provinciali. Insieme alla Fondo Valle Sclero, la Polizia di Stato ha riservato particolare attenzione anche alla strada statale 372 Telesina, una delle strade più trafficate d'Italia, con un transito medio giornaliero di 20.000 veicoli leggeri e 3.500 mezzi pesanti. Controlli di veicoli e identificazione di numerose persone sono stati effettuati dalle pattuglie della Questura, del Capologo Sanita e del Commissariato di Teleseterme, oltre che del Reparto Prevenzione e Crimine della Polizia di Stato. Ha tentato di evadere dal carcere minorile di Airolamo, è stato bloccato dalla Polizia a darne la notizia il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, sottolineando che il protagonista dell'attentata evasione è un detenuto oltre a 18enne, già noto per le sue intemperanze, eppure è ristretto nel carcere minorile del servizio. L'evasione di un giovane detenuto maggiorenne è stata sventata dalla Polizia Penitenziaria. Il giovane che era in una cella di isolamento del carcere minorile di Airola, in provincia di Benevento, con un rudimentale ferro ricavato dalla rottura di uno sgabello, aveva fatto un foro nel muro che confina con il cortile, ma è stato scoperto. Il giovane fa sapere il segretario generale del sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria, Donato Capece, una volta scoperto ha sferrato un violento pugno ad un agente di Polizia Penitenziaria, procurandogli una lesione al volto che ha richiesto l'intervento dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti per sudurargli la ferita. Il SAP esprime solidarietà e parole di apprezzamento per la professionalità, il coraggio e lo spirito di servizio dimostrati da poliziotti penitenziari proprio ad Airola. E solamente grazie a loro, aggiunge, agli eroi silenziosi del quotidiano con il basco azzurro, se le carceri reggono alle costanti criticità penitenziarie, si legge in una nota. Un aneddoto che ancora una volta ricorda, dunque, le mancanze e le difficoltà in cui opera e lavora la categoria. Protesta a Palazzo Paolo V contro l'arrivo benevento di Roberto Fiore per un comizio elettorale di Forza Nuova in programma nel pomeriggio al Piccolo Teatro Libertà. Non è possibile che venga adibito uno spazio pubblico alla Kermessa fascista. Questo è il senso della manifestazione. Vediamo. Protesta contro l'arrivo benevento di Roberto Fiore per un comizio elettorale di Forza Nuova in programma dalle 16 di domenica al Piccolo Teatro Libertà. I manifestanti, non più di una cinquantina, hanno dato vita ad un corteo di protesta, urlando slogan e disponendo manifesti e striscioni contro Forza Nuova e contro il fascismo. Quando il corteo è giunto e in corso Garibaldi, alcuni dei manifestanti al megafono hanno scandito frasi contro i giornalisti e il PD. Tra gli slogan, le strade sono di chi ama, nessuno spazio al fascismo. Cori non soltanto contro Forza Nuova, contro la stampa, ma anche alla polizia, al Partito Democratico e al sindaco Clemente Mastella, che ha concesso uno spazio comunale al partito guidato dal segretario Fiore. Ci dispiace non dare l'ennesima carogna in basso alla stampa e agli stronzoni che oggi sono stati mobilitati da quest'ora è bella assai. Vi salutiamo con un ciao ciao. Continuate a difendervi i fascisti. Le strade, come al solito, ancora una volta, ce le ripigliamo noi, metro per metro, in barba, hanno partecipato gli anarchici, il centro sociale depistaggio, il corteo controllato dalle forze dell'ordine si è poi sciolto nei pressi del ponte sul fiume Sabato, dove erano anche presenti degli agenti di polizia per presidiare l'area. Chiudiamo con una notizia di sport. È stato assegnato Lorenzo Illussi della sezione di Molfetta l'arduo compito di dirigere la sfida di Serie B tra Empoli e Avellino sul terreno del Carlo Castellani che si annuncia ghiacciato con una temperatura tra meno 5 e meno 6 gradi. Lorenzo Illussi sarà coadiuvato da Stefano Bellutti della sezione di Trento e Niccolò Pagliardini della sezione di Areccio, quarto uomo Niccolò Marini della sezione di Trieste. Era questa l'ultima notizia, vi lascio in compagnia delle presioni del tempo e con il resto della nostra programmazione. A voi tutti, grazie dell'attenzione. Arrivederci. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento curato da ilmeteo.it Previsioni per martedì 27 febbraio. Il freddo siberiano porta ancora neve fino a bassa quota sulle regioni adriatiche, gelo al nord e qualche pioggia ancora al sud. Analizziamo la situazione nel dettaglio. Al nord locali nevicate a bassa quota sull'Emilia Romagna, asciutto e stabile altrove ma con molte nuvi e con cielo a tratti anche coperto. Al centro neve fino al piano sul versante adriatico, meglio sui restanti settori peninsulari con ampio soleggiamento, buono anche sulla Sardegna ma qui peggiora via via con qualche precipitazione anche nevosa a quote basse. Al sud locali nevicate a quote collinari su Puglia e Lucania, piogge a carattere sparso altrove, in genere di debole intensità ma migliora ovunque entro la nottata. Neve fino al piano sul medio versante adriatico oltre i 600 metri sui rilievi calabresi, venti moderati settentrionali. Concludiamo infine con le temperature previste in ulteriore calo, le minime saranno infatti comprese tra meno 15 e 10 gradi su tutto il nostro paese. Temperature gelide al nord con non più di 3 gradi, fino a 11 gradi al centro e punte di 15 gradi al sud. Grazie a tutti.